ok ragazzini buonasera buonasera lo so siamo già qui in ora di palestra siamo già qua che andiamo in palestra andiamo a prendere la nostra amica giussi? no pensai che non parlavo ho visto che stava parlando e si blocca che ne so e niente ragazzi oggi video breve perché la connessione internet oggi veramente fa cacare anche gli alpini i nostri alpini tu niente devi dire? no apatica stai oggi? vabbè non saprei si può stare allegri si può stare anche un po' star si può stare anche tranquilli e sereni ragazzi siamo tornati dalla palestra nooo vai scappata eccola siamo tornati dalla palestra si vede quanti mica quanti mica nooo poi metti la foto eccola eccola vai da vai da ragazzi guardate guardate che c'è che si sbriga la vedete? c'è una piccola giartolina noi siamo amici degli animali metteremo la foto che ho fatto appena appena veloce siamo tornati dalla palestra abbiamo allenato i nostri piccoli cegni che ormai sono giunti alla massima alla massima età alla matura età che dire che dire che Charles Trippi continua a fare i suoi concerti che anno ci sta aspettando l'insalatuna? ci sta aspettando l'insalatuna ci sta aspettando l'insalatuna bella ricca come Cristo comanda perchè Cristo all'epoca già faceva l'insalatuna aveva un pub da Jesus no? no lui era lì a fare le insalate no poteva mettermi qua pure con un barcaccio vabbè perciò domani fai un poco di cammini in più eh dai bene ragazzini siamo qui a cena come sempre come al solito appuntamento serale lì a sbucce delle pagnatelle ma chi è? Ellie Speed un'amica americana ah che a te è giusto guarda questo insalatuna c'è di tutto stasera veramente abbiamo messo di tutto manca solamente una cosa che cosa? che cosa? insalata ah c'è un po' di verde dai che stavo dicendo? mamma stavo vedendo il Brasile che ha preso già cinque pere dalla Germania siamo all'ottanta sessantasettesimo sessantottesimo adesso e le cinque pere fanno male fanno male fanno male le pere fanno male vabbè perciò dai che ora si raffredda scusate dai bene noi ci accingiamo ci accingiamo a degustare questa insalatona oh tu guarda un'altra pira forse la Germania fa sesto gol sesto gol della Germania al sessanta...novesimo quasi 6-0 sembra di giocare alla play 6-0 e il mondiale finisce qui per la Germania per il Brasile bene palestra oggi tonici guardate che muscolone sembra una cosa faccio vedere l'osso paranoico dai che ci aspetta che ci aspetta una cosa beh penso che avete visto il video di ieri no? non ho ancora letto commenti vabbè è uscito tardissimo il video però ciao buon appetito dai amici come vedete è arrivato il momento della Ninna guardatela 30 euro si può si può la 30 euro hanno fatto pensano sempre a queste stupideggini mai che ma senti ferma mi tocca i piedi con quelle sue unghie cateniche guardate che belle unghie che ho l'unghie all'onicomicus stanno di vongole oppure di olivia scolare le mie unghie se uno le lecca le le ha leccate no assolutamente ti ricordi quando si stavate quelle unghietta piccole in bocca? ma vai vai un giardo che non sei altro comunque ragazzi è finita questa giornata lo so sono tutti uguali le nostre giornate tutti uguali ma è un periodo di transizione ragazzi di transizione perchè stiamo veramente pensando di essere che teschi dai se tutto va in bene se tutto va in porto cambieremo vita no? speriamo molto prima noi il passo lo dobbiamo fare chi ci vuole seguire ci segua chi non ci vuole seguire non ci segue sia su facebook che su twitter ah adesso io ti ho ovviamente no fatevi scherzi beh questa mattina stasera l'insalatuna è stata abbastanza piena poi ci siamo fatto ergelato no? perchè diventi napoletano romano e quant'altro e perchè mi piace essere internazionale capito? fate gli scherzi dai fate gli scherzi dai pensate che era piena era buona mi ha riempito letteralmente il pacino tu non racconti nulla tu? niente mi sono saziata con l'insalatuna si ma al di là dell'insalatuna è un argomento che vorresti uscire? no in questo momento no perchè sono stanco mi sto stancando un altro po' di più per con il cellulare così prendo solo no 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 Vabbè ragazzi Il video di oggi termina qui Iscrivetevi al canale Anche se Ci siamo fermati a 36 iscritti Dai arriviamo a 40 La fine del mese almeno arriviamo a 40 persone 4 iscritti dai Dai ragazzi Ditele ai vostri amici Ai vostri parenti Siamo a quanti giorni? 80 A 300 se ci saranno i 4 iscritti No Se arriviamo a 50 iscritti Faremo Una live Degna di essere chiamata Live Faremo delle attrazioni Dei fuochi pirotecnici Ci saranno patatine E coca cola go go Eh? Solo per noi ovviamente Poi se voi volete partecipare Ve la comprate La mangiate insieme a noi Tramite web Vabbè allora Dovremmo arrivare a 50 iscritti Dai ci fate raggiungere questa piccolissima Pappa Dai dai 50 iscritti Oh Rosa Ci tengo eh Dai spamma Danielino Spamma Winè Spamma Ben Winenzo dice Eh ma io ho già fatto 4 amici Che poi sono spariti questi 4 amici Uno si è cancellato Poi chi più Chi più ci segue Che eh Come si chiama quel ragazzo Daniele Daniele Sensi Daniele Sensi Spammaci Spammaci come 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 sapresti spammare solo tu Come non mai Come non Spamma come se non ci fosse un domani No se non ci fosse un domani È ovvio Che se non ci fosse un domani Mirko Bonè Se tu ci segui Anche se ci vedi un video Batti un colpo Batti un colpo E spammaci Perché io a te spammo come Come se fossi mio fratello Un fratello Jackson Visiano Eh Dicono che io assomiglio a A Mirko Ma veramente No No Dicono che ho dei profili Il profilo dici che assomiglia a volte a Mirko No Io non vedo questa somiglianza Beh ragazzi il video di oggi domina qui Iscrivetevi Commentate Lasciate un like Un mi piace Quello che volete voi Ciao Ciao a tutti Buona notte Io Come si chiama Della puligine E poi faccio i miei maglioni di lana All'interno Decià 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 Ok